Flannery Cup, seconda edizione, seconda semifinale di questo martedì, si affrontano ultimo minuto Real-Napoli, risultato fermo sul 6-4 in favore dell'ultimo minuto, estremo difensore folle, scarica su Barriale, Barriale porta palla, porta palla, serve nello spazio, Troiano, Troiano, allarga per festa, festa, gioco di gambe, salta la testa per sentire un avversario, salta ancora un altro avversario, prova a calciare da lontano, Caccavale si oppone e dirige una muraglia davanti alla propria porta, festa da rimessa laterale su Troiano, Troiano la spunta, la mette al centro a metà fra un tiro e un cross, un cross sbagliato possiamo definirlo così, Martini estremo difensore dell'ultimo minuto, Barriale allarga per Caccavale, Caccavale lancia lungo nello spazio, innescare De Fusco, nulla da fare, moccia, contro festa, duello d'eccezione, migliori giocolieri di questo match, festa, ancora festa, nello spazio per Troiano, sbaglia l'appoggio, lungo, scaglia su De Fusco che prova a riservirlo, viene però intercettato, De Fusco, Esposito, prova ad appoggiare al compagno, nulla da fare, viene servito festa, limite dell'aria, solo Caccavale e Barriale ad opporsi, poi si aggiunge Esposito, ancora festa, prova a calciare Caccavale, frate, 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 un po' spento stasera rispetto al solito, moccia, solito gioco di gambe, prova a dribbare Masei, si allunga un po' troppo la palla, viene... Come fai a entrare? Perché l'ha toccata lui, figlia, ragazzi, paolo, moccia, su Esposito, che appoggia per De Fusco, De Fusco, salta l'avversario, viene poi colpito in modo irregolare, viene ammonito Masei, De Fusco, su questo calcio di punizione, Masei, carica il sinistro, di un non nulla, Arbitro, uno e mezzo, alla fine o al calcio? Al calcio Troiano Troiano lancia lungo, a cercare il compagno Caccavale, si improvvisa, centrale di difesa e lo fa in maniera abbastanza buona, Festa da lontano, becca il palo, la sfortuna stavolta colpisce Festa Martini Variale Scivola, poi De Fusco Nulla da fare, estremo difensore del Real Napoli, prova a rilanciare, lontano Caccavale Esposito, si danno fastidio a vicenda, Variale va su questa rimessa laterale, dentro per Festa, ancora Caccavale in anticipo Troiano, Troiano, parte in percussione per via centrali, salta da avversari, si infila al centro, poi, lungo di gran carriera, lo ferma, rischia anche qualcosa, infatti cade a terra infortunato Chiudiamo qui le riprese per il risultato finale www.peronpompero.it 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 www.peronpompero.it